Alzi la mano chi durante la maternità e i dintorni ha avuto dei momenti in cui non è proprio che si sia sentita così bene, fisicamente ok, e quello è già un capitolo, e poi c'è tutta la parte psicologica. Capiamo insieme perché ci succedono questi momenti di difficoltà e come li possiamo risolvere. Nel 1973 l'antropologa Dana Raphael ha dato una spiegazione a questo stato d'animo di noi donne che stiamo vivendo una transizione da donne a donne mamme veramente geniale. Sapete come l'ha chiamata questa fase della vita di una donna? Madrescienza, ma non madrescienza come io pensavo all'inizio, cioè la scienza sulla madre. Ha utilizzato il termine madrescienza ricordando una fase della vita che le assomiglia molto, cioè l'adolescenza. Madrescienza e adolescenza hanno un sacco in comune in realtà, cioè la Dana se l'è studiata proprio bene questa cosa qua. Come nell'adolescenza, anche durante la maternità, ci si sente in alcuni momenti di cambiare sensazione, emozione di continuo. Come nell'adolescenza, magari non ci piacciamo per niente. Come nell'adolescenza, durante la maternità, hai degli sbalzi umorali. Ecco, questa cosa che ci succede non va confusa però con il baby blues, che di solito ha una durata di circa 15 giorni, e nemmeno con la depressione postpartum, che invece ha bisogno di uno studio, di un'analisi ben diversa. Immagino che alcune mamme, come è successo a me, abbiano riposto nella maternità, nell'avere un figlio, tantissime aspettative di gioia, armonia, completezza. Ad esempio, quando io ero incinta, credevo che l'arrivo del bimbo sarebbe stato un po' un... Vissero tutti felici e contenti, il resto era un po' meno importante. Ma in realtà ho sbagliato. Perché poi quando ti trovi a casa con la creaturina, i giorni in cui tutta sta armonia non la senti, tutta questa voglia di dare, 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 non ce l'hai. Voglia di te, 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 ne hai tantissima. Succedono questi momenti. Poi ci sono anche i giorni dove dici, Natura, wey, lassù, ma non mi dovresti aiutare? Perché ci sono anche quei giorni dove dici, non mi dovrebbe venire tutto distinto, perché a me distinto oggi non mi sta venendo proprio niente. È che durante la madrescenza, noi mamme, siamo attaccate alla teoria della fune. Principalmente siamo al centro. Da una parte abbiamo la fune dell'oxitocina che fa sì che mettiamo il bimbo al centro e tu mamma devi ruotare intorno al bimbo. Dall'altra parte abbiamo la fune che ci tira, che è la fune della nostra vita. Tutto quello a cui teniamo i nostri desideri, il nostro lavoro, le nostre voglie di dormire, di mangiare, di andare in bagno, in privacy, andare a letto col nostro partner. Ora ci chiediamo, noi mamme, ma per viverci meglio questa fase di madrescenza, c'è una soluzione? Cosa possiamo fare? Qualcosa potremmo fare. Forse vergognarci un po' meno? Forse chiedere un po' più aiuto? A me è servito in alcuni momenti parlare tanto con delle amiche, paradossalmente a volte anche non mamme. Il confronto col mondo non della maternità, essere me stessa col mio partner. La prima volta che ho scoperto il termine madrescenza e quindi tutto quello che ne comporta, mi sono resa conto che se forse questo termine fosse di conoscenza comune come l'adolescenza e non solo citata dalla Dana, da me, da voi, dagli psicologi, qualche psicologo nel mondo, magari qualche depressione postpartum la potremmo prevenire? Forse ci sentiremmo tutte un po' più al sicuro a sapere che la madrescenza è un aspetto totalmente normale della nostra vita? Io la madrescenza onestamente l'ho sentita, questa proprio transizione da essere una donna ad essere diventata una mamma. Vi ha stupito, vi ha colto impreparate, preparate, la conoscevate già. Mi raccontate le vostre riflessioni proprio su questa fase molto particolare e sfidante della nostra vita? Come dice Alessandra Sachs, quando nasce un bambino nasce anche una madre, entrambi con le proprie instabilità. La madrescenza è profonda, è difficile, ma per questo viva e maledettamente umana.